Per l'amministrazione del tuo condominio, rivolgiti a studio amico, competenza, sedetà e professionalità. Richiedi un preventivo ai numeri in sovraimpressione. Ricorso sì, ricorso no. Più che un dubbio amaletico, la questione si è trasformata in una vera e propria battaglia cittadina. Da una parte ci sono colori quali che, seguendo il consiglio del sindaco Servalli, vorrebbero che il patron Campitiello continuasse la lotta contro il mancato ripescaggio in Lega Pro, ricorrendo al TAR. Dall'altra ci sono coloro che, come il presidente stesso, reputano vano l'ennesimo ricorso, ritenendolo inutile vista la carenza emersa dalle documentazioni presentate. Nel mezzo c'è una stagione di Serie D alle porte ed una squadra quasi totalmente da ricostruire. Pochi in questo momento gli elementi a disposizione di Mister Longo, che ha perso, peraltro, in questi ultimi giorni, il difensore Manzi, passato alla Paganese, ed il centrocampista Gian Dattasio. L'impressione è che per le prime due uscite ufficiali al Simonetta Lamberti non si vedrà ancora la cavese che sarà. Il 28 contro la vincente tra Ercolaneum e Gragnano bisognerà onorare la Coppa Italia, mentre la settimana successiva ci sarà la prima di campionato contro la Palmese. In questo weekend di ferragosto sono tutti in vacanza, presidente, allenatore e calciatori. Ma da martedì si dovrà fare sul serio. Il tempo non permette più passi falsi.